Se tu soffri e il tuo soffrire è tale che ti impedisce ogni attività, ricordati della Messa. Nella Messa Gesù, oggi come allora, non lavora, non predica. Nella vita si possono fare tante cose, dire tante parole, ma la voce del dolore, magari sorda e sconosciuta agli altri, del dolore offerto per amore, è la parola più forte, quella che ferisce il cielo. Se tu soffri, immergi il tuo dolore nel suo, di la tua Messa, e se il mondo non comprende, non ti turbare. Basta che capiscano Gesù, Maria, i Santi, vivi con loro e lascia scorrere il tuo sangue a beneficio dell'umanità, come Lui. La Messa, troppo grande per essere capita, la Sua, la nostra Messa. La Messa, troppo grande per essere, la nostra Messa.